Nell'imminenza della stagione balneare e al fine di prevenire il verificarsi di eventuali forme di inquinamento imputabili ad un non corretto funzionamento dei sistemi depurativi costieri, il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, e la sua Giunta hanno inteso dare una prima, concreta risposta ad un problema che riguarda l'inquinamento delle nostre acque marine. Una criticità che negli anni passati è stata spesso oggetto di critica e che probabilmente è alla base del forte decremento delle presenze turistiche registrato nella nostra Regione. Su proposta del Governatore della Calabria, l'Esecutivo regionale ha approvato un programma di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione nei comuni costieri della Regione Calabria. Appena assunto il provvedimento, il Dipartimento regionale Ambiente e Territorio si è immediatamente attivato per predisporre tutti gli atti necessari al finanziamento voluto da Oliverio. A tutti i comuni della riviera della Regione è stata richiesta la compilazione di apposite schede tecniche sintetiche riferita ad ogni impianto di depurazione e o impianto di sollevamento dei reflui urbani, riportanti le criticità e le possibili soluzioni con una stima dei relativi costi degli interventi, comunque riconducibili a interventi di ripristino funzionale. A seguito di attenta istruttoria tecnica amministrativa, coordinata dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, sono stati così considerati ammissibili 100 interventi proposti da altrettanti comuni che hanno risposto alla richiesta. A 100 comuni costieri della nostra Regione, quindi, saranno erogati 8 milioni di euro. Tale provvedimento, oltre a rendere funzionali ed efficienti gli impianti di depurazione dei comuni costieri, rappresenta anche una grande boccata d'ossigeno per gli amministratori di quei comuni che hanno risposto all'iniziativa della Regione Calabria e che ora potranno guardare con più ottimismo al periodo estivo. Nello specifico, tra gli 82 comuni interessati dal piano approvato della Regione, rientra Mantea, Cassano, Loionio, Paola, Praia Mare, Ciro, Isola Caporizzuto, Crotone e ancora Guardavalle, Catanzaro, Soverato, Tropea, Pizzo, Vibo Valenza e Zambrone. Per quanto riguarda poi la provincia di Reggio Calabria, rientrano Africo, Bagnara, Bianco, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano, Ferruzzano, Locri, Marina e Giosa Ionica, Parizi, Portigliola e infine Reggio Calabria, San Roberto, Rosarno, Scilla, Siderno e Villa San Giovanni.